E' intollerante quello che sta accadendo, è intollerabile in questo paese, una forza pubblica viene utilizzata per fini privati, per difendere interessi commerciali e economici di alcuni, una forza pubblica viene stragata con i soldi di tutti loro, viene utilizzata per difendere interessi e profitti privati. Questa è una vergogna!